terza edizione del meeting internazionale di atletica città di lucca che si conferma una delle manifestazioni sportive più importanti del calendario cittadino e da quest'anno sarà inserita nel world atlet continental tour 2024 una grande opportunità quindi anche per la nostra città e per lo sport porta atleti internazionali di altissimo livello ricordo nella nostra città di fatto un po va a certificare il buon lavoro l'ottimo lavoro che una realtà come la virtus fa sul territorio e uno sport importante come l'atletica dal punto di vista formativo dal punto di vista agonistico insomma a per la città di lucca l'edizione 2024 servirà a consolidare a dare una continuità a ciò che è stato fatto negli anni precedenti 19 maggio 2024 le pedane del campo scuola moreno martini quindi ospiteranno i big dell'atletica internazionale ma anche i big dell'atletica virtus lucca e degli atleti lucchese nonché gli atleti italiani perché lucca diventa uno snodo fondamentale per tutti compresi i nostri atleti ed atlete in vista dei campionati europei che si imputeranno a roma nel mese di giugno del 2024 ma anche in vista di parigi 2024 lucca è una di quelle tappe nel calendario mondiale che porta tanti punti e quindi speriamo di vedere protagoniste i nostri atleti e le nostre atlete in particolar modo nel salto in alto femminile posso dare questa anticipazione certa idea pieroni perché vogliamo cercare di fare il possibile naturalmente poi rispetto all'atleta ma per creare tutti i presupposti chissà per un sogno europeo o forse per scaramanzia non dico altro il programma tecnico è ancora in via di definizione ma accetta la presenza di idea pieroni e del salto in alto femminile oggi ho aperto la locandina ho visto appunto che ci sono io la mia foto appunto al meeting di lucca della prima edizione è stata un'emozione unica non me l'aspettavo e appunto questa stagione è molto importante ci sono tanti obiettivi tra cui in primis il primo obiettivo è roma 2024 gli europei e la stagione io la comincerò fra due settimane con una gara molto tranquilla a firenze e da lì in poi appunto sarà tutto diciamo una caccia al punteggio per il ranking a fare sempre di più nelle gare più importanti e appunto sono contentissima che una di queste gare che mi aiuterà sarà il meeting di lucca questa stagione è un'emozione 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 un'ozione 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 un'oz